il saluto noi di noi amici di telebabu web tv di youtube rezzoggi cittanetta che dirvi di più eccoci quando un altro nuovo filmato e per dirvi che nel prossimo filmato vedrete i saluti del mitico regista fausto brizzi che è stato al giardino delle idee ad rezzo sabato 5 sabato sera è stato un bel evento e ringraziamo gli amici del giardino delle idee per i saluti del mitico fausto brizzi un saluto nei prossimi video ciao state con noi sempre su telebabu web tv seguiteci ciao ciao a tutti saluto a telebabu e a rezzo oggi ciao grazie mille ciao